Entra nell'abitazione dell'ex compagna e tenta di aggredirla in presenza delle figlie minori. Un energumeno ha aggredito anche i poliziotti che hanno tentato di fermarlo. Protagonista della vicenda, un 25enne di origine rumena che è stato arrestato. Gli agenti della sezione volanti erano intervenuti nella notte scorsa presso un'abitazione del centro cittadino dopo una segnalazione al commissariato di una lite familiare. Giunti sul posto, gli agenti trovavano il giovane noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia davanti al portone d'ingresso, molto agitato, mentre stava cercando di entrare con la forza all'interno dell'abitazione della sua ex. L'uomo in preda all'Ira riusciva ad accedere all'interno dell'abitazione dove, alla presenza delle figlie, tentava di aggredire la donna. Solo l'intervento dei poliziotti ha impedito il peggio. Gli agenti, nel tentativo di fermare l'uomo, venivano a loro volta colpiti con testate e pugni. A questo punto, con non poca difficoltà, l'aggressore veniva bloccato dagli operatori ed arrestato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni. Entrambi gli agenti hanno infatti riportato lesioni guaribili in sei giorni.